Buongiorno a tutti di Professione LED, anche oggi trattiamo un altro argomento che ci avete richiesto in molti. È possibile gestire, dimmerare una striscia LED dal device smartphone? Sì, lo possiamo fare, grazie a questo nuovo dimmer. Questo nuovo dimmer è Bluetooth. Ovviamente funziona comunque anche con il pulsante, come abbiamo visto in altri video. Infatti possiamo accendere, spegnere, possiamo riaccendere e possiamo anche dimmerare dal solito pulsante, quindi fare più luce o meno luce, a nostro piacimento. Ok? Come abbiamo già visto. Ma abbiamo un'altra opzione. Possiamo gestire questo dimmer tramite il Bluetooth con una sua applicazione dedicata. L'applicazione si chiama Blue Dimmer, adesso vi faccio un attimino vedere il suo loghetto, è questa qui, quindi noi clicchiamo su Blue Dimmer, adesso noi lo abbiamo già accoppiato, però quando si fa il primo accoppiamento è un normale pairing di Bluetooth, quindi facciamo la ricerca dell'apparato. Si vedrà negli apparati Bluetooth Blue Dimmer, basta cliccarci sopra e l'apparato in automatico si connette. Una volta che noi lo abbiamo trovato, lo troveremo qui in blu scuro, Blue Dimmer, ci clicchiamo sopra e viene fuori, come vedete, la sua paginetta. Dalla paginetta, adesso non so se la striscia si vede in camera, ok? Quindi adesso noi la mettiamo qui magari a favore, ok? Si vede un po' meglio? Perfetto. Noi da qui possiamo accendere, allora clicchiamo su Blue Dimmer, possiamo accendere la striscia, possiamo spegnerla, la riaccendiamo e tramite il suo tastino possiamo anche fare la dimmerazione. Possiamo fare più e meno luce, indipendentemente, possiamo utilizzare per accendere sia questo che questo. Adesso noi per esempio l'abbiamo messa a una bassa luminosità. Se noi anziché spegnerla dal cellulare, la spegniamo dal bottone, si spegne, se noi la voressimo riaccendere possiamo accenderla anche nuovamente dal telefono. Quindi i due metodi di accensione è mantenere la memoria della luminosità, sia in un caso che nell'altro. Quindi se noi spegniamo e riaccendiamo la striscia, ecco qui. Quindi possiamo noi realizzare una luminosità del nostro apparato anche tramite il telefonino, senza avere più il problema di far funzionare solamente tramite pulsante. Potremmo addirittura non utilizzare mai il pulsante e fare tutto sempre tramite il nostro smartphone grazie a questa applicazione BlueDim. Se volete ulteriori informazioni in merito potrete sempre contattarci o dal nostro sito professionaled.com, potete scriverci dai commenti di YouTube oppure telefonarci 049 933 5621 oltre alle nostre pagine Facebook e Twitter. Buona giornata!